le azioni panoramiche lungo anzi lungo la variante adiacente alla variante qua abbiamo il l'algine della variante satura di erba di discarica vedi qua circa un mese da qui allora tutti i mezzi che il transito ambollerà ambo i lati che fanno devono occupare la carregione verso il centro oltre a ciò guarda sa che c'è stata qua c'è di tutto di più questo adesso con l'abcino accendo a partire con l'abcino sono costretto a tenermi ecco qua da qua oltre un metro sono costretto ad effettuare questo percorso qui non mi ci posso mettere perché qua è pericoloso vedi la stessa cosa tutte le auto l'intero fronte l'intero fronte fin sotto anzi qua si allarga ancora di più ancora più più largo e procede fin là sotto e qua sono anni che non ci ripulisce c'è erba c'è parte sa che ci sta no tutti i tipi di erba e poi qua comincia una brilla di scarca il traffico qua guarda sa che ci sta qua c'è uno strato su questa strada e sotto strada e vabbè mi fermo qua adesso vi faccio vedere un'altra cosa qua comincia un altro bel capolavoro vedi aumenta adesso che ci sta qua compreso là sotto oltre allora voglio specificare che oltre a questo scritto che sta qua vedi è più di un metro da qua a qua questo è l'argine si evidenzia un altro strato di pericolosità stradale ecco il mando è stradale facciamo una passeggia da piedi vedi fin sotto qua urge pulire messo in sicurezza la strada per il ripristino regolare di flusso stradale esente da pericoli a causa della sporcizia che c'è qua nella strada e e soprattutto a causa di questo mando stradale guarda questo è pure mando stradale guarda c'è di tutto e di più vabbè buongiorno a tutti bisogna vedere il cimitero guarda c'è di tutto